Bella gara quella giocata tra Sporting, Ortona e Alba Adriatica. E le 3-0 finale è passivo troppo pesante per gli albenzi che avrebbero meritato di segnare più di un gol, ma l'imprecisione dei propri avanti e gli interventi di Di Quinzio hanno lasciato a zero la casella dei gol segnati. Lo Sporting ha giocato una partita molto intensa ed ha avuto il merito di saper colpire nei momenti toppici della gara. Si comincia e dal quarto minuto da un errore in fase difensiva dell'Ortona la palla arriva a Spinozzi che si fa respingere la conclusione da Di Quinzio. All'undicesimo si vede l'Ortona rispoli innesca De Luca che da buona posizione conclude a fil di palo. Al quattordicesimo tiro cross di Emili che diventa una parabola destinata all'incrocio risolve bene però Di Quinzio. Diciasettesimo Dragani per De Luca girata a volo para Massi. Al diciannovesimo l'Alba in contropiede, Spinozzi brucia in velocità a scafaro e conclude con la palla che sfiora l'incrocio. Ventottesimo Dragani calcia in porta su punizione dalla distanza ma si devia in angolo. Contropiede Alba ma Spinozzi prima e Di Giorgio dopo non riescono a concludere con efficacia. Al quarantesimo arriva il gol del vantaggio dello Sporting. Coccia perde palla De Luca va al cross e Bellè di testa fulmina Massi. Alla quarantacinquesimo lo Sporting potrebbe raddoppiare ma Dragani è sfortunato con questa bella punizione. Si chiude qui un bel primo tempo. Nella ripresa l'Alba spinge sull'acceleratore e dal quinto minuto Esposito va a concludere di testa. Si allunga Di Quinzio e devia. Undicesimo ancora Alba Di Paolo al tiro ancora però Di Quinzio a sventare la minaccia. Nel miglior momento dell'Alba arriva il raddoppio dello Sporting al venticinquesimo. Da una punizione la palla arriva a Poli che di destro fulmina Massi. Si scaldano gli animi in tribuna ed anche in campo e a farne le spese è mister Di Serafino che viene espulso. Poi Sporting in dieci per l'espulsione di Poli per doppia ammunizione. Al quarantatreesimo splendida apertura di Dragani per De Luca che batte a volo ma si devia in angolo. Ed in pieno recupero arriva il terzo gol con De Luca che apre per Dragani. Splendido diagonale del capitano e partita conclusa. Il primo tempo forse il gol loro alla fine ci ha un po' tagliato le gambe. Forse se andavamo all'intervallo solo 0-0 forse il secondo tempo ci saremmo giocata meglio. Noi purtroppo all'inizio abbiamo creato tanto, una squadra che gioca fuori casa non può sbagliare tre o quattro gol. Poi loro hanno segnato e il secondo tempo è giusto. Hanno fatto la loro partita, hanno messo l'agonismo forse qualcosa in più. Una squadra che lotta per salvarsi è anche da capire forse. Se uno vede la partita e vede il risultato pensa a un'altra partita. Invece secondo me è stata una partita, abbiamo anche qualche occasione secondo me per pareggiare. Poi loro alla fine hanno vinto. Onore a loro, ci hanno messo quella cattiveria giusta per una squadra che deve salvarsi. Forse noi è mancata quella oggi. Sull'espulsione? Sull'espulsione io non ho detto assolutamente niente. Forse qualcuno è scappato qualche parola. L'albitro me l'ha detto anche adesso, mi ha confermato. Mi aspetto di non essere squalificato perché non me lo merito. Quindi voglio stare in banchina la prossima partita. Siamo partiti non benissimo. Infatti loro hanno avuto parecchie palle per poi passare in vantaggio. Fortunatamente non è stato così. Poi abbiamo iniziato a giocare. E poi è uscito il mio gol che ha dato un piccolo entusiasmo alla squadra. Che poi il secondo tempo, i primi dieci minuti abbiamo sofferto ancora. Poi la qualità dei giocatori che ho, soprattutto Alessio, che ha fatto veramente la differenza. E ci ha portato nella sicurezza di aver già archiviato la partita. Disperso soprattutto per Poli perché è il 95 molto forte che si è lasciato andare in una doppia munizione. Che sono cose che è giovane però non deve commettere perché siamo già in emergenza. E quindi non l'avremo per la prossima partita. Però tutto sommato la partita sono tre punti che fanno classifica, fanno morale. Ci permette veramente adesso di fare due settimane di sosta e lavorare bene per prepararci alla prossima partita che è a Montorio che sarà una partita molto difficile. Vorrei dedicare questo gol a Francesco Di Tommaso e a Agno Pellegrini che mi hanno ristabilito dopo un infortunio subito con il Giulianova. Veramente mi hanno messo in condizione di giocare e anche di fare il gol. Ringrazio soprattutto loro.